il ma chi è? Achille mi fa una, io no, il fratello poi sotto quell'altra, oh ma com'è bello, guarda la chioma come li cade bene fortunate quelle che possono infilarsi nel suo letto i greci dicono alason e noi latini diciamo ervantone questo soldataccio che avete visto adesso è il mio nuovo padrone è un infame vigliappo, merdoso e fedifrago pure lui pensa che tutte le donne gli corrono dietro, tutte quante lo prendono in giro pensa che addirittura le donne si siano gonfiate le labbra a furia di mandargli i baci ma tu guarda, io non sapevo che Filocomasi avessi una sorella gemella e com'è? è uguale? è ugualissima due gemelle in un colpo sono? è certo che con due uguali deve fare un bell'effetto ah no, c'è un problema, è fidanzata io ti spezzo le gambe, ti trido le budella fate trova un'altra lotta e spia sul tetto di casa mia e ti faccio piangere il latino proprio lui un attimo fa è salito sul tetto, ha guardato giù nell'implugio e che ha visto? che ha visto? Filocomasio che si stava baciando con un uomo mai visto e conosciuto una visitina dall'oculista al posto tuo la farei guarda che faccia che hai messo su c'è una donna che ti ama e che spasima per la tua bellissima bellezza ma che novità è questa? palestrone il mondo è pieno di donne che spasimano per me e mo basta eh, e questo è troppo chi si è permesso di molestare la mia ospite? è stato lui sin a merce buonasera, sono il comandante del peschereccio sì, cerco una sarta, no una sarta Per il plecdomeno ha una moglie T'è bellissima che vuole me per Dio la voglio anch'io Per lui che adoro Che il mio tesoro Ti fai innamorare tutti al primo colpo, eh? Non te l'ho detto, venere mia zia Pazzia! 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 Grazie a tutti Grazie Grazie